Bisogna rigenerarsi, ripensare a nuove strategie da un punto di vista commerciale, sapendo naturalmente che il momento è difficile. I conti si faranno alla fine, ma non ci sono dubbi che anche il Natale 2013 non farà registrare una ripresa dei consumi. La crisi colpisce non solo a livello economico le tasche degli acquirenti, ma crea anche un senso di insicurezza sul futuro che in diversi casi convince a risparmiare su quanto un tempo si spendeva in regali. Questo 2013 effettivamente sta portando a galla un'infinità di problemi e fa sì che si blocchi quasi un 30% in meno rispetto agli anni precedenti questo flusso di dinara all'interno dei negozi. Il calo di acquisti c'è e si sente, ma non è uguale per tutti. Alcuni settori continuano a registrare un saldo positivo, viceversa per altri si conferma una tendenza negativa già riscontrata negli ultimi anni. Sicuramente la tecnologia continua a farla da padrone perché inevitabilmente una persona a giorno d'oggi non può essere fuori dalla tecnologia. Poi il discorso dell'alimentazione, quello comunque c'è ed è sempre più importante. Ci sono alcuni sentori di rallentamento sul fronte dell'abbigliamento e delle calzature, ma questo è un po' di anni che si sta segnalando. Per quanto riguarda poi il mondo dei viaggi o comunque dell'intrattenimento, dipende molto da un discorso meteorologico, ma fortunatamente riusciamo comunque, almeno nella nostra zona, a tenere, come si usa a dire, botta.